E' emergenza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Nel reparto di medicina generale i posti letto si ridurranno a 10 per gli uomini e 10 per le donne, diventeranno 15 invece quelli per ortopedia e solo 6 per medicina d'urgenza per osservazione breve. Chiuso inoltre il day surgery, la chirurgia di un giorno con relativo trasferimento dei sanitari nelle unità operative di maggiore necessità. Un drastico calo di posti letto e personale dunque che insieme al blocco dei servizi per gli esterni hanno creato una situazione di criticità. A denunciare il depotenziamento del nosocomio vallese, che al momento è l'unico a dover rispondere all'esigenza di cure dei cittadini di decine di comuni del Cilento, è il segretario provinciale della CISFP Pietro Antonacchio. De Luca afferma, prevedeva che non si sarebbero sospese le attività sanitarie, infatti non si sospendono, si chiudono definitivamente sia nel privato che nel pubblico e nei territori periferici. Quello che non viene compreso, prosegue Antonacchio, è che nell'area dell'Asda Salerno l'ordinario si mantiene con lo straordinario e ora che la regione si prepara a recepire quanto stabilisce una normativa dell'Unione Europea, che non si possono fare più di 48 ore a settimana di straordinario, la naturale conseguenza per le nostre aree sarà la sospensione delle attività. Questo comporterà la perdita del diritto alla salute per i cittadini, ma nel contempo un aumento di spesa per la stessa regione in quanto i pazienti si andranno a curare fuori dalla campania.